Presidente Morandini, anche la Fondazione Friuli è a fianco dell'Università in questo percorso verso la sostenibilità. Condividete questo obiettivo naturalmente? Assolutamente sì, ci fa molto piacere che sia il tema trainante dei lavori di Conoscenza in Festa. Proprio perché il tema della sostenibilità, un tema così sentito, è stata oggi anche la grande occasione, e credo l'occasione migliore per ringraziare di cuore il lavoro che ha fatto il magnifico rettore in questi sei anni ed è un lavoro che ci ha portato a dove siamo oggi con la presenza della stragrande maggioranza dei rettori dell'Università italiana qui a Udine, c'è la presenza del neopresidente Acri Francesco Profumo e questo ci dà lo spessore delle capacità relazionali che in questi anni l'Università di Udine ha sviluppato, capacità relazionali che sono fondamentali per interpretare nel modo corretto la nostra quotidianità.